Guarda, il piano! Benvenuti a un nuovissimo episodio di Manifesto del Cinema Trash, sono il vostro Ivan Pliz e come sempre sono qua per parlarvi di film demoliti dalla critica, i cosiddetti film trash o b-movie, detti in maniera molto più elegante, in terra anglofona, ma non perdiamoci in ciance inutili. Come sempre, prima di cominciare vi chiedo gentilmente di sostenere questo progetto, semplicemente mettendo un bel segui al canale e poi commentando, condividendo questo video, insomma, facendo tutte le azioni possibili perché la rete di follower possa aumentare in modo tale che io possa sempre fare più e più video, anche più di una settimana, banalmente, e anche più e più diverse rubriche, insomma, quindi aiutatemi per favore. Ma adesso andiamo direttamente al sodo perché oggi parliamo di un film molto importante negli anni Ottanta, mi riferisco ad Antropophagus di Aristide Massaccesi, in arte Giordamato. Di questo regista abbiamo già parlato in un video precedente in cui, nello specifico, andavamo ad analizzare il suo periodo erotico-esotico, ovvero tutta una serie di film girati in territorio caraibico tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, con particolare riferimento a Papaya dei Caraibi, Sesso Nero, Pornolocaust e Le Notti Erotiche dei Morti Viventi. E sarà proprio da questi ultimi due che il film di cui andiamo a parlare oggi, ovvero Antropophagus, prenderà di fatto abbrivio. Ma andiamo in ordine e cominciamo subito con la trama di Antropophagus, perché questa volta, indifferentemente da tutti gli altri video, la trama è molto molto semplice. Ci troviamo di fronte a questa protagonista, ovvero Judy, interpretata da Tisa Farrow, che si trova appunto in Grecia, e deve arrivare in un'isoletta della Grecia, che in realtà è l'isola di Ponzo in Italia, ma lasciamo perdere, perché su quest'isoletta ci sono dei suoi amici, banalmente. Cerca un passaggio e non lo trova, alla fine trova un gruppo di amici in vacanza, che hanno uno yacht, e che di fatto stanno cazzeggiando in giro per il Mar Greco, e decidono di accompagnarla su quest'isoletta. Una volta arrivati qua, scopriranno che essa è praticamente disabitata, in quanto tutti gli abitanti del posto sono stati brutalmente uccisi. Questo chiaramente loro non lo sanno, ma cominceranno ad avere dei dubbi quando uno di questi personaggi, interpretato da Rubina Pei, esce da una botte colma di sangue, urlando e con in mano un pugnale. Le domande cominceranno a fioccare a quel punto. L'assassino in questione è Klaus Wartmann, interpretato da Luigi Montefiori, un uomo che ha di fatto cannibalizzato la sua famiglia, mi riferisco al personaggio, non alla vita privata di Luigi Montefiori chiaramente, e che dopo aver quindi ucciso la moglie e il figlio, decide di sterminare tutta l'isola greca, e ce la fa, tra l'altro, ce la fa molto bene. Come avrete capito, la trama di questo film è molto molto semplice, non c'è nulla di particolarmente complesso, proprio come non c'era nulla di complesso in Pornolocausto nelle notti erotiche dei morti viventi. Tra l'altro, tutti questi tre film sono collegati innanzitutto da un'ispirazione comune, ovvero Zombie 2. In maniera particolare in Anthropophagus, questa ispirazione è ancora più forte, dal momento che c'è un'attrice in comune, ovvero Tisa Ferro, che interpreta la protagonista in Anthropophagus. Ma non solo questo, perché anche parte della crew che lavora dietro i film, a questi tre, quindi a Pornolocausto nelle notti erotiche e Anthropophagus, di fatto è la stessa, soprattutto parlando appunto degli effetti speciali del trucco, affidati a Pietro Tenoglio, che fa sempre questi trucchi molto esagerati, molto di grana grossa, quindi con queste bistecche attaccate agli occhi e sangue a fiumi ovunque, che di fatto denota benissimo questo periodo di fine settanta e inizio ottanta del cinema di Giudamato, prima quantomeno che egli poi sfoci nel porno puro. Tra l'altro, la cosa importante da dire è che in questo Anthropophagus le scene erotiche sono ridotte al minimo rispetto a Pornolocausto e alle notti erotiche dei morti viventi, in cui di fatto ci troviamo di fronte a degli eros slash horror puri. Chiaramente anche la produzione è la medesima degli altri film, ci troviamo sempre di fronte alla film Mirage di Giudamato e Donatella Donati e per la distribuzione la PCM International, che è una casa di distribuzione creata sempre da Giudamato nel 1979, tra l'altro pensate specificatamente per distribuire Sesso Nero, film di cui tra l'altro abbiamo parlato e di cui fa parte del filone appunto erotico-esotico. Ma non soltanto queste due case produttrici in realtà, perché la grossa somma di denaro che servirà per le riprese e di fatto per mettere in cantiere il tutto arriva dalla Eureka International, una casa di produzione sudamericana condotta di fatto da Edward Sarlouis, un personaggio davvero pazzesco. Edward Sarlouis era un ebreo emigrato in Sud America nel dopoguerra con un piccolo gruzzolo e volle investirlo facendo chiaramente lo strozzino in Sud America. Questa attività assolutamente legittima e per niente deplorevole lo porterà a sequestrare a, di fatto, un debitore che non potrà pagarlo, un drive-in. Preso questo drive-in si accorgerà però che non ha film da proiettare, perché in Sud America arrivavano pochissime pellicole dal resto del mondo. Sarà a questo punto che Edward Sarlouis cosa fa? Comincia a comprare film dall'Italia, che poi ridistribuisce in tutta America. Questo lo porterà ad aprire, pensate, ben 72 sale cinematografiche in tutto il Sud America, diventando di fatto una delle più grosse case di distribuzione di quel territorio. Ed è pazzesco come nasce tutto questo, perché dovete sapere che la Eureka Film non solo pagherà a Giudamato, appunto, Antropophagus, ma tanti, tanti altri film, come ad esempio tutta la trilogia di Hathor. Quindi, insomma, stiamo parlando di un distributore, di un produttore molto importante per il nostro Aristide Massaccesi. Tra l'altro la Eureka International diventerà poi, e passerà, a Giudamato stesso, quando, appunto, Sarlouis gliela venderà alla fine degli anni Ottanta, ormai. Capite quindi da questi piccoli elementi quanto questo film fosse internazionale. Mi riferisco tanto alle ambientazioni, quanto al fatto che un produttore sudamericano decida di produrre questo film e poi di esportarlo anche a casa propria. Ma non soltanto questi punti, perché ci sono tante piccole cose che fanno capire quanto questo film abbia di fatto fatto il giro del mondo. Una delle più importanti e curiosi, secondo me, è il fatto che Antropophagus viene completamente vietato e proibito in Inghilterra per via dei videonesti. Ebbene sì, perché all'inizio degli anni Ottanta, in Inghilterra, come in tutto il resto del mondo, cominciano ad arrivare i primi videoregistratori e le prime VHS. O per meglio dire, esistevano già, però cominciano a diventare alla portata di tutti. Questo spaventa tantissimo la politica inglese perché, di fatto, qualche videocassetta incriminata contenente film estremi, violenti e in grado di plagiare le menti delle giovani creature inglesi, beh, potrebbe arrivare sul suolo inglese e quindi creare un'epidemia di Jack gli squartatori, nuova nuova di Zack. A questo punto, nel 1983, il Department of Public Prosecution deciderà di creare una lista di videonesti, quindi di video o sceni, in cui inserirà una marea di film, moltissimi, tra l'altro, proprio italiani, che sono assolutamente proibiti o sconsigliati in Inghilterra. Questa lista, che sul subito poteva essere considerata semplicemente come quella del Vaticano, in cui si mettevano i film sconsigliati al pubblico, beh, diventerà legge nel 1984 con il Video Recording Act. E, di fatto, questa lista arriva fino ai giorni nostri, pensate che intorno al 2001 viene addirittura riattualizzata e vengono aggiunti dei film. Questo chiaramente fa di Antropophagus un film assolutamente leggendario, perché, di fatto, per venire proibito addirittura in Inghilterra, beh, ragazzi, ci troviamo di fronte a un capolavoro assoluto a questo punto. E quindi tutti, chiaramente, lo vogliono vedere, perché come ogni volta che nella storia viene creata una censura o viene oscurato qualcosa, quel qualcosa, sia di ottima qualità, sia di pessima qualità, beh, deve essere visto assolutamente da tutti, perché la curiosità a quel punto fa 90. Probabilmente anche questo ha contribuito poi nel 1999 alla creazione di Antropophagus 2000, film che non c'entra nulla col nostro Antropophagus, perché è girato appunto da un regista tedesco di nome Schnass, penso si pronunci così, ma non ne sono assolutamente certo, beh, questo regista di fatto crea questa pellicola per omaggiare il cinema gore splatter italiano e inserirà all'interno anche tantissimi riferimenti, ad esempio al Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato, di cui sicuramente prima o poi andremo a parlare. Certo, c'è da dire che Schnass non ha neanche pagato i diritti al buon vecchio Giudamato, questo non ha portato chiaramente a una causa legale, però secondo me è molto importante anche questa cosa, perché anche in Germania un piccolo regista decide appunto di creare un film omaggio all'opera di Giudamato, e questo è sintomatico del fatto di come Antropofagus abbia in qualche modo incentivato il cinema horror italiano, ma anche internazionale, verso lì di più gore e splatter, perché ricordiamoci sempre che all'interno di questa pellicola Luigi Montefiori, che interpreta di fatto Klaus Bartman, quindi il cannibale, mangia i propri intestini, mangia un feto umano, cioè nel senso piccole cose ma terrificanti. Collegandoci appunto a questa nota macabra del film, c'è un piccolo aneddoto riguardante appunto Giudamato e le location utilizzate per Antropofagus che non può non essere raccontata, perché dovete sapere che parte del film è stata girata a Nepi, quindi in Italia, e più nello specifico nelle catacombe di Nepi, catacombe antichissime e assolutamente stupende, ancora oggi aperte al pubblico. Tra l'altro proprio un caro amico che c'è stato da poco mi ha raccontato che la visita turistica all'interno delle catacombe cita il film di Giudamato, quindi il film è ancora assolutamente vivo nelle nostre memorie e questa è sicuramente una cosa molto positiva, ma non perdiamoci in ciance. In questa scena abbiamo Klaus Bartman alias Luigi Montefiori che trascina per i capelli una giovanissima Serena Grandia una delle sue prime apparizioni cinematografiche per di fatto estrargli il feto dalla pancia e mangiarlo vivo. Queste catacombe erano già piene di fatto ancora di qualche osso di qualche teschio però non erano ancora abbastanza macabre. Giudamato deciderà quindi di chiedere al direttore degli effetti speciali di noleggiare delle ossa finte in modo da poter riempire ancora di più i loculi e renderli ancora più macabri dando l'idea di tutte le persone che di fatto il cannibale ha divorato nel corso degli anni. Una volta concluse le riprese Giudamato dice di sbaraccare tutto di raccogliere le ossa finte peccato che probabilmente il direttore degli effetti speciali non ricordasse la differenza tra le ossa finte e quelle vere e le raccoglie tutte quindi svuota completamente i loculi. Questa cosa a Nepi non viene probabilmente recepita o se si non dicono assolutamente niente perché non ci sono denunce o altro in corso. Giudamato si troverà quindi con questo sacco pieno di ossa e quando lo riporterà a coloro che gliel'hanno noleggiate di fatto questi ultimi gli tireranno dietro le ossa vere perché chiaramente non le vogliono vogliono soltanto le ossa finte e Giudamato si trova non più con un sacco pieno di ossa vere finte ma solo con un sacco di ossa vere e che cosa ne farà secondo voi di queste ossa vere? Fa l'unica cosa che un buon cristiano dovrebbe fare le seppellisce nel giardino di casa quindi capite che nel giardino di casa Massacesi c'è un piccolo altare pieno di ossa etrusche e questo è terrificante però è anche molto divertente in realtà bellissimo concludiamo questo video parlando dei sequel che nel corso degli anni sono stati fatti o ipotizzati intorno ad Antropofagus quello più famoso è sicuramente quello del 1981 ovvero Rosso Sangue girato appunto dallo stesso Giudamato in realtà la storia qui si complica un po' perché sul set tutti o quasi erano convinti di star facendo un sequel di Antropofagus ma se andrete a vedere il film e ve lo consiglio tra l'altro lo trovate appunto su YouTube vi accorgerete che non si tratta assolutamente di un sequel benché ci siano in realtà elementi di rimando ad esempio abbiamo sempre Luigi Montefiori che fa il cannibale l'assassino soltanto che sto giro non si chiama più Klaus Wartman ma si chiama Mirko Tanopoulos quindi capite che è cambiato qualcosa è sempre ambientato in Grecia ma non è la stessa roba c'è anche addirittura la scena dove lui mangia gli intestini quindi si ricollega fortemente al primo peccato che nel film non sia più un cannibale il mostro ma sia una sorta di demoni in quanto ha paura di questo prete che poi è un po' il protagonista tra l'altro prete microbiologo vabbè insomma ci sono degli elementi un po' strani però capite che è un sequel non sequel è stato realizzato grossomodo con lo stesso cast più o meno negli stessi luoghi ma non si può parlare di un sequel nel senso moderno del termine nel 1990 cominceranno ad arrivare anche dei rumor delle voci su un antropofagus 3 e su un'ipotetica scena in cui vediamo il mostro che al posto di mangiarsi gli intestini si mangia con un piccolo cucchiaino dei pezzi di cervello suo chiaramente dato che gli hanno scoperchiato il cranio quindi capite delle cose un pochino gore un pochino strane si vociferava tra l'altro che il mostro fosse sopravvissuto alla fine di antropofagus 1 diventando di fatto uno zombie ora cose molto molto strane che non verranno mai fatte tra l'altro queste voci vengono smentite poi qualche anno dopo dallo stesso Aristide Massaccesi quindi insomma non sappiamo neanche cosa sia vero e cosa sia finto chiaramente Antropofagus 3 non è stato mai fatto Rosso Sangue come vi dicevo non è un vero e proprio sequel e Antropofagus 2000 di Snash è in realtà più che un sequel un omaggio al cinema gore splatter italiano con questo si conclude un video dedicato di nuovo a Giudamato ne farò tanti altri perché è un registo che amo particolarmente e ha fatto una quantità di film talmente enorme che mi permetterà di parlare ancora tanto e tanto di lui io nel frattempo come sempre vi ringrazio per avermi sentito cianciare per tutto il tempo che dura il video vi chiedo come sempre di sostenere questo progetto e di aiutarmi anche a condividere questi video sui social quindi molto banalmente condividete le mie story condividete il link del video su Facebook fate tutto ciò che potete per allargare la rete di contatti che stiamo creando per fare sempre nuovi e nuovi video e darvene molti molti di più sia di perle del cinema trash sia adesso con Kaiju Party la mia nuovissima rubrica anche di perle del cinema nipponico grazie ancora per essere stati con me ci vediamo settimana prossima ciao ciao ciao